la comunità. L'incontro di oggi con il professor Luigi Cavanna può essere considerato una sorta di anteprima a cui seguiranno altri quattro incontri che verranno sempre trasmessi in diretta streaming sulla pagina del Comune di Cossolengo. Li elenco brevemente. Venerdì 22 gennaio, sempre alle ore 17.30, avremo ospite lo scrittore Gabriele Dadati e con lui sveleremo la vera storia del clima ritrovato, il mistero che ha appassionato Piacenza e il mondo nei mesi scorsi. Venerdì 5 febbraio sarà la volta della psicologa Paola Frattola e dell'esperta di social media Sara Brugnoni per parlare del social e delle relazioni sociali ai tempi del Covid. Venerdì 19 febbraio si terrà un incontro sugli effetti del distanziamento social nell'infanzia e nell'adolescenza con il pedagogista Daniele Novara. La rassegna si concluderà venerdì 5 marzo con un incontro incentrato sul lavoro dello scrittore intitolato Raccontare la pandemia con ospite Giuseppe Rufo, finalista del premio Strega 2020. Ricordo che nei giorni successivi gli incontri saranno disponibili anche sul canale YouTube della biblioteca e sarà quindi possibile vederli indifferita. Alla fine di ogni incontro sarà possibile interagire con l'ospite perché chi segue da casa potrà fare domande che non rivolgerevano interessato. Professore manteniamo la mascherina a questa distanza è consentito. Ma forse per dare una buona immagine. esatto esattamente. Allora oggi siamo davvero lieti e onorati di poter ospitare il primario di oncoematologia dell'ospedale di Piacenza il professor Luigi Cavanna al quale la rivista americana Time ha dedicato la copertina come esempio di sanità che funziona ma anche di coraggio e di grande umanità. Sappiamo tutti ormai che il professor Cavanna è andato casa per casa durante i mesi più bui della pandemia portando alle persone malate non soltanto una cura contro il covid ma anche un antidoto alla solitudine. Per l'incontro di oggi vorremmo proprio partire da qui dal concetto di isolamento e senso profondo di solitudine. L'ho potuto verificare di persona quando si è recato fisicamente con le sue unità operative nelle case delle persone ammalate nei luoghi più lontani anche dalla provincia di Piacenza. Penso all'Alta Vallnure, penso a tanti posti che hanno che danno difficoltà appunto ad accedere, hanno difficoltà ad accedervi. E una delle cose che mi veniva da chiederle prima di tutto era se le persone che lei ha incontrato casa per casa come ha potuto constatare che vivessero questo isolamento, cioè come, che cosa ha percepito incontrandole rispetto a questa loro condizione di isolamento? Grazie Sindaco, grazie all'amministrazione comunale di Gossolengo per questo invito che davvero mi fa molto piacere. Io sono un vostro cittadino, sono di Gossolengo, quindi mi fa doppiamente piacere. Sì, questa malattia, questo Covid è stato veramente una tragedia, se ne è parlato tanto, se ne parla, ma i danni continuiamo a vederli, a parte il problema grosso sanitario di persone che si ammalano, di persone che purtroppo muoiono, di persone che vengono ricoverate, non vedono più nessun parente, e quindi è davvero qualcosa che facciamo ancora fatica a quantificare dal punto di vista anche proprio medico, scientifico, ma anche sociale. Venendo alla sua domanda, ecco, all'inizio, verso i primi di marzo, guardate, io ricordo quel venerdì, era il 21 febbraio e al mattino presto, ci alziamo presto con i ammoli per andare a lavorare, alle sei meno un quarto, e vedo ai titoli del telegiornale, primo caso di Covid a Codogno, e il resto quasi dico, beh, caso di Covid a Codogno, che strano, era così lontano, era in Cina, sì, sapevo che c'erano due cinesi lo Spallanzani, ma erano due persone che venivano per turismo, e sembrava qualcosa così, e vado a lavorare, e il giorno dopo, soltanto il giorno dopo, sabato, era, si avvertiva già l'aria che qualcosa stava cambiando, che qualcosa ci stava arrivando addosso di non mai visto prima, e qualcosa di molto grosso, e qualcosa che poteva cominciare a farci paura. Però venendo a rispondere alla domanda, io ricordo, come ricorderete tutti, che allora la raccomandazione era non dissimile a quelle che si dice adesso, se una persona non sta bene, se ha febbre, se ha tosse, deve stare a casa, avvisare il medico, ma stare a casa, stare a casa, da quel ritornello, non andare al pronto soccorso, stare a casa. Noi, quando ci chiamavano le persone malati stesse, i loro parenti, o il medico di famiglia, era veramente agli albori, i primi di marzo, perché l'EUSCA ha cominciato verso il 23-24 marzo, almeno da noi in altre realtà ancora dopo, ecco, quando entravamo nelle case c'era, ma davvero quello che colpiva ed era quasi commovente, era che le persone giovani o meno giovani o anziani ci accoglievano come coloro che avevano già fatto qualcosa, soltanto andando a casa, soltanto entrando in casa, ma io ricordo che più di una persona, nella gravità della situazione, quasi avendo un'oggettiva coscienza di quello che si poteva correre, ci diceva andrà come andrà, magari, dottore, magari non ce la faccio, magari, però se devo morire, voglio morire a casa, ma vi ringrazio che comunque qualcuno è venuto a trovarci. Qualcuno è venuto vuol dire che non siamo soli, vuol dire che qualcuno si interessa a noi. Questo era uno dei momenti più duri, se vogliamo, anche più, che faceva scoprire anche la nostra professione un rapporto anche diverso, un rapporto umano di bisogno, di bisogno di contatto e di superare la solitudine. Poi abbiamo capito quanto era importante il contatto con queste persone, che noi davamo i farmaci, facciamo le ecografie, facciamo la parte medica, la parte fisica, se vogliamo, la parte più tecnico-scientifica, ma quanto era importante il giorno dopo chiamarli? Noi raccomandavamo, lasciamo sempre il telefono, dicendo, ci chiami, non so, alle otto e mezzo, alle nove del mattino, dicendo, come è passata la notte, poi ci chiami verso le tre del pomeriggio e alla sera dice se ha mangiato, se ha bevuto, se è andato in bagno, se ha preso le medicine, se tardavano chiamavamo noi e la felicità di queste persone quando sentivano la nostra voce al telefono. Quindi davvero questo fa anche ripensare, ma ne abbiamo parlato con i colleghi, con la direzione, col direttore sanitario, direttore generale, di quanto ci sia bisogno di ricreare un rapporto umano quando una persona non sta bene, soprattutto se si sente isolato, come ci ha portato ad essere isolati questa malattia. Grazie. Ci sono state delle vicende analoghe, poi successivamente anche qui sul territorio, a livello, diciamo, di amministrazione, segnalazioni e quant'altro che vanno proprio nella stessa direzione. i riscontri sono, posso dire che in forma molto ridotta, in scala molto ridotta, ovviamente i riscontri sono esattamente questi, con le persone. E rispetto a questo, ovviamente è un periodo tanto lungo che ancora si sta protraendo, ma appunto, perché ormai parliamo di almeno dieci mesi di esperienza, quali sono i ricordi più forti legati a questo periodo, a questo tipo di assistenza, di cura, oltre che assistenza, perché è una vera e propria cura della persona? Quali sono i ricordi più intensi, più forti che hanno caratterizzato la sua esperienza di questi mesi? Ricordi più intensi sono tanti. Sembra a volte, paradossalmente, quello che si viveva oggi rischiava di essere spostato, non dico cancellato, ma spostato, messo un po' da parte, da quello che si viveva domani. Però poi alla fine i volti delle persone, le storie umane, si mantengono vive e restano vive. Sono tanti i ricordi, davvero, anche a volte piccoli particolari. Comincio da uno che può sembrare davvero quasi così, molto piccolo. C'era un signore della Bassa, nella nostra zona, verso Monticelli-Castelvetro, molto malato per malattie precedenti. Aveva preso il Covid e la moglie, persone ancora giovani, tutte e due, avranno avuto fra i 50 e i 60 anni, diceva che qualcuno venga a casa perché deve fare la cura, perché ha un'altra malattia importante da curare. Ed era seguito, non a Piacenza, ma in Lombardia, e parlai con il nostro capo salato, diceva che dobbiamo andare, andiamo. E questa signora, mi ricordo che eravamo seguiti da due giornalisti, da due giornalisti che volevano riprendere la nostra attività, dico voi non entrate nella casa, aspettate fuori. La signora fa no no, le faccio entrare. E alla fine insisteva per darci una mancia, per darci 50 euro, ma voleva darcelo col cuore. E noi ovviamente eravamo in forte imbarazzo e trovavamo la battuta dicendo, ma che era vero, signora guardi, berremo assieme quando starà meglio, adesso come facciamo a bere il caffè? Ci sono tutti i bar chiusi, ma effettivamente erano tutti i bar chiusi, nel lockdown c'era tutto chiuso. E questa era, detta così può sembrare una banalità e chiedo scusa, ma c'era dentro gli occhi di quella donna, parlavano per lei. Credo che darci quella cifra era veramente molto importante, ma voleva ricompensarci. Era la gratitudine. Queste sono cose che lasciano un segno. Poi altri ricordi, ne abbiamo tanti, ricordo un signore che era lettato, perché spesso il Covid colpisse persone sane, ma colpisse persone che hanno già delle malattie. Era lettato e non voleva andare in ospedale assolutamente. Era lì a livello di dover fare la dialisi. E noi tornavamo in ospedale per portargli le medicine. Poi siamo tornati a vederlo a distanza di mesi, lo contattavamo al telefono e questo era fuori dal cortile che camminava. E quando ci ha visto, ci ha abbracciato. Era uno maccione, ma sarà stato 120 chili. Ed era, la sua felicità, era veramente una ricompensa grandissima. E da ultimo, che questo è una storia molto bella, al lieto fine c'erano due persone molto malate. La loro figlia aspettava un bambino, era molto avanti dalla gravidanza. Ovviamente, diciamo, state attenti alla separazione, potete ben immaginare, tutti gli accorgimenti per le distanze e stare separate nella casa. Però timori ne avevamo. Poi eravamo a marzo, il bambino è nato a giugno e questa signora ci ha mandato una fotografia che stavano staccando il cordone ombelicale sul bambino, in senso di riconoscenza molto grande. Meraviglia. E quindi sono ricordi molto belli, ecco. Che meraviglia. C'è sempre, la vita pare vincere quindi, soprattutto, nonostante qualcosa di veramente molto, che la mette molto a rischio, ma vince. Sì. Questo è molto bello. E oltre agli aspetti appunto medico-sanitari che hanno caratterizzato questa esperienza particolare dell'Eusca, innovativa per molti versi, secondo lei quali sono gli aspetti medico-sanitari che hanno contraddistinto questo periodo? E parlo ovviamente dei problemi che porta il Covid, quindi polmoniti, vasculiti, tutte le conseguenze che poi dopo, io poco, ma mia moglie che l'ha preso in maniera un pochettino più importante di me, ha fatto 12-13 giorni all'ospedale con l'ossigeno, ma poi per mesi si è portata dietro qualche residuo, diciamo, fisico, no? Però, però, secondo lei, quali sono gli effetti collaterali, oltre a questi, fisici, quindi affanno, magari problemi circolatori neurologici, ho sentito di tantissima gente che ha avuto poi postumi del Covid a livello neurologico, ma a livello invece personale, psicologico, sociale, che cosa è che ritiene più pericoloso come effetto, come post-Covid? Io distinguerei il post-Covid di chi è stato malato, ma c'è anche un post-Covid dei parenti, di chi è vissuto con una persona malata. O di chi lo sta vivendo, ecco. O di chi lo sta vivendo, certo, certo. Ma, faccio un passo indietro. Allora, se una persona viene curata, diciamo, a casa, l'esperienza che abbiamo maturato proprio sul campo, se viene curata a casa, anche se passa in una situazione seria, cioè il Covid viene, per evitare che ci sia autoreferenzialità, per essere più precisi, scientifici, c'è cinque classificazioni, una forma sintomatica, una forma lieve, moderata, una forma severa e una forma grave. La forma moderata e severa, c'è già la broncopolmonite e c'è già l'insufficienza respiratoria. Ecco, le persone con forme moderate e severe le abbiamo curate tante a casa, quindi non solo forme lieve, ma anche forme moderate e severe, ma anche perché non c'era posto in ospedale e le persone non volevano andare in ospedale. Quindi eravamo anche, in un certo senso, sollevati dal punto di vista proprio anche della scelta di curare a casa. Anche se si stavamo, dicevamo, no, dà, sei riuscito a darmi le cure e mi cura a casa. Ecco, le persone con forme, diciamo, moderate e severe curate a casa hanno postumi diversi da chi è stato ricoverato in ospedale. Secondo me, non perché in ospedale vengono curati meno bene, assolutamente, ma perché in ospedale si è avuto un impatto notevole l'isolamento. Pensiamo a una persona anziana. Allora, tutti sanno che Covid è molto più grave e più mortale delle persone oltre i 75 e gli 80 anni. Ma pensate, una persona anziana è un problema davvero che affronto ogni giorno, anche con i miei colleghi e con la direzione. Quando una persona anziana viene ricoverata in ospedale, in una situazione non Covid, spesso perde i rapporti col suo mondo, non riconosce più la sua camera, il bagno, la cucina e a volte può disorientarsi o, potremmo dire in modo grossolano, può perdere un po' la testa. Pensate a una persona col Covid che viene ricoverata, che non vede più il parente e che si vede di fronte delle persone mascherate, con delle tute, ma c'è davvero da impazzire e le persone anziane cominciano a non mangiare più, a non bere più, a lasciarsi andare, ad agitarsi e quindi questo davvero lascia delle conseguenze enormi nelle persone che riescono a superarlo, proprio psicologiche. A volte vedo persone che dicono, ma sono molto stanco, quando ho fatto il Covid non ce la faccio più, sono stanco. Anche con tutti gli esami, i parametri biologici, tutti gli esami più fini immunologici sono normali perché c'è una forte componente psicologica, di isolamento forte che c'è in ospedale. Per quello che la nostra esistenza di curare precocemente a casa non è perché ci piace questo, ma risponde a due problemi. L'uno di evitare questo isolamento, l'altro di far sì che i posti in ospedale restino liberi per delle persone che altrimenti a casa non sarebbero curate, pensiamo agli infarti, all'ictus, a tutte le malattie oncologiche che hanno avuto un ritardo enorme negli interventi chirurgici. Quindi, se posso, io credo che la prima ondata che ci è arrivata davvero addosso come una valanga potevamo a livello di scelte, ma io uso il plurale, mi ci metto dentro, a livello di scelte, ma parlo di scelte alte, forse farle con un po' più di attenzione. L'estate in cui eravamo liberi, cioè giugno, luglio, agosto, potevamo davvero lavorare di più per dire l'autunno se tornerà, poi purtroppo è tornato, facciamo una strategia di curare a casa le persone. Insomma, non è stato tanto così, in alcune realtà è stato, ma in altre no, e viviamo un momento difficile sicuramente. Quindi adesso, di fatto, l'impatto è duplice, da livello sanitario, cioè l'impatto positivo di questo tipo di assistenza e cura, mi diceva, a livello sanitario e a livello psicologico, perché comunque non si toglie il malato dal proprio ambiente, anche i parenti comunque lo sanno a casa e lo sanno, diciamo, comunque curato. E quindi anche, probabilmente, aggiungo io, c'è anche un tipo di, come dire, di conforto differente, perché poi in ospedale non è possibile comunque sia avere tutte a portata di mano, anche semplicemente quelli che sono i rapporti telefonici che possono esserci a casa, perché non è, quindi questo è veramente molto importante. Io ho visto, dopo 30 secondi, ho telefonato poco tempo fa a un mio ex collega che ha saputo essere stato ricoverato in terapia subintensiva con il casco. A me è sembrato di parlare con un ragazzino di 15 anni, una persona che è neanche quasi 60, perché, come segnato, segnato da questo tipo di esperienza, però ovviamente la cosa che mi diceva comunque sia anche in ospedale l'impatto positivo dell'assistenza e delle cure ricevute, quindi l'empatia che comunque ha generato nel personale sanitario, che è stato provato da questa esperienza, soprattutto nella prima ondata, io, mia moglie infermiera, ha visto tanti casi, però su questo veramente penso di poter dire che ha dato una, come dire, si è vista una marcia in più, probabilmente, anche a livello assistenziale, sia ovviamente per questo tipo di nuova esperienza delle USCA, ma anche a livello ospedaliero. Sicuramente, io credo che l'ospedale, cioè il comparto sanitario, chiamiamolo così, poi, davvero, dobbiamo coinvolgere tutti, ma non per dire vogliamoci tutti bene, che è una cosa buona questa, ma perché tantissimi ruoli sanitari e vicino al sanitario, ma pensiamo anche le osso, le persone che portano i malati, che ruoli importanti avevano, ma chi porta un malato, se sta attento a cambiare bene la barella, a sistemarla, a utilizzare tutta la metodologia per la pulizia e la disinfezione, è chiaro che sarà strategico nel non trasmettere l'infezione, quindi, poi ci sono viste persone che facevano ore su ore, giornate su giornate, senza riposo, che in altre situazioni non l'avranno mai fatto, però c'è stato, e diciamo che la parte che ci ha insegnato Covid, sono tanti gli insegnamenti che abbiamo avuto, uno è proprio quello di cercare di curare di più le persone fuori dall'ospedale, tutti gli anziani, le malattie croniche, e l'altro avere una maggiore umanizzazione nell'ospedale, perché effettivamente quando si va, lo diceva già un giornalista della stampa tanti anni fa, quando uno mette il pigiama, sembra quasi che perde dei diritti, e questo non dovrebbe più essere, soprattutto se una persona non ha un banale raffredore. Certo. A tal proposito, si è discusso tanto in questi mesi sulla validità degli attuali modelli sanitari, del rapporto tra medicina del territorio e medicina ospedaliera. Secondo lei, la pandemia, questa esperienza che ci sta segnando, può rappresentare un'occasione per ripensare, o comunque per portare dei correttivi al nostro sistema sanitario? Secondo me, sicuramente, ma già in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Europa, si stanno un po' rimodulando il discorso della telemedicina, il discorso di evitare un'eccessiva ospedalizzazione di tante persone. Proviamo a far mente locale. La maggior parte, noi in Italia, per fortuna da un lato, ma la popolazione è fatta da tante persone anziane. Le persone anziane espressano tante ecopatologie, soffre di cuore, di rene, di pressione, di tumori. Quindi, se queste persone possono essere seguite vicino a casa, il più vicino a casa possibile, da un lato si mantiene la loro vita più integra, per dire, qui Gossolengo è vicino a Piacenza, ma pensiamo, non so, a Ferriere, o Vezolacca, o Morfasso. Se hanno un punto di appoggio, che potrebbe essere la casa della salute, se veramente funziona bene, vicino a casa, ove ricevono una cura, una risposta ai bisogni, è sicuramente un avanzamento. E proprio Covid ce l'ha insegnato questo, perché abbiamo, si è visto, si è stati obbligati a dire a molte persone di rimandare i controlli, o addirittura di mandarci gli esami per via telematica, e poi, con un confronto telefonico, con la telemedicina, si riusciva a selezionare le persone che dovevano veramente avere bisogno della visita. Quindi, Covid ha insegnato, ci sarà veramente un cambiamento nei rapporti fra ospedale e territorio. Una buona realtà sanitaria deve avere un buon ospedale che funziona e un territorio che funziona altrettanto bene e che questi due pezzi di cura lavorano assieme. Grazie. Invece, quest'altra domanda da mesi e più che mai in questi giorni il tema dei vaccini è ovviamente di freschissima attualità perché è iniziata la campagna vaccinale che in parte però divide l'opinione pubblica. La campagna vaccinale genera in tante persone tanti dubbi sia in ordine all'efficacia che alla sicurezza dei vaccini stessi per la breve sperimentazione che hanno avuto rispetto ad altri. Ma in ordine alle problematiche anche di somministrazione perché comunque non sono secondari di distribuzione quando in merito un parere franco rispetto a questa problematica a questi dubbi o se si sente anche di scongiurare o comunque di chiarire alcuni di questi dubbi che da tanti ambienti possono avvenire? Allora una premessa che i vaccini rappresentano se ci pensiamo i vaccini in generale adesso poi arriviamo a Covid rappresentano una delle modalità forse più importanti per la prevenzione delle malattie i vaccini hanno salvato milioni di vite nel mondo nel corso degli anni e quindi il vaccino serve per far produrre anticorpi dal nostro organismo e di essere pronti quando incontreremo l'agente patogeno a difenderci perché per Covid si sta discutendo? Da un lato perché c'è stata una compressione del lavoro in meno di un anno rispetto alla storia naturale dei vaccini che hanno 6, 7, 10 anni proprio come lavoro pratico e di ricerca e poi dopo di utilizzo sul campo questi vaccini questo della Pfizer la Pfizer ma anche l'altro che è pronto adesso hanno una caratteristica che sono stati prodotti con una modalità molto innovativa sono RNA l'RNA è un acido ribonucleico è un acido che trasmette l'informazione nella cellula mentre gli altri sono quelli classi a DNA quindi l'efficacia nel far produrre anticorpi lì è dimostrata possiamo essere sicuri ci sono tante dimostrazioni e tanti studi ben fatti che dicono il vaccino fa produrre anticorpi e protegge dal Covid non sappiamo rispondere a questa domanda per quanto tempo gli anticorpi ci saranno questo non si sa dire però sicuramente gli anticorpi vengono prodotti poi io devo essere molto onesto con voi quindi dire le cose che so e anche i dubbi che ci sono a livello scientifico poi secondo alcuni ricercatori dicono la metodica RNA è molto nuova e quindi pur essendo sicura perché gli studi hanno dimostrato però quella DNA magari è più rodata questi sono sottigliezze che secondo alcune hanno un certo valore ma diciamo per darci coraggio e dire alla fine non avremo più scuse per non fare il vaccino è anche quello DNA oramai alle porte si sta producendo anche quello quindi io credo che il vaccino sia quello per Covid un grande avanzamento e finalmente ci porterà a vivere a tornare a vivere in un modo un po' più normale nel frattempo però ho sempre sostenuto facciamo ricerca anche sulle cure perché ammettiamo che qualcuno non possa fare il vaccino non che non lo voglia fare ma per non il 100% potrà farlo se si ammala dobbiamo pur curarlo quindi cercare per fortuna in Italia stanno sperimentando i anticorpi monoclonali che sono delle proteine che si fanno sottocuto intramuscolo poi altri farmaci per bocca quindi avere anche qualcosa di pronto da poter utilizzare se una persona si ammala certo a tal proposito una curiosità sono stato chiamato convocato dall'Avis qualche tempo poco tempo fa in quanto paziente ex paziente covid per fare un prelievo per fare le analisi sul livello anticorpale nel mio sangue perché anche in Emilia Romagna abbiamo penso cominciato a fare la raccolta del plasma per il per il iperimmune ha un'efficacia diciamo a che livello questo tipo di diciamo di soluzione il plasma per il immune è molto efficace efficacissimo poi è un momento in cui perché nella medicina e nella ricerca e nei farmaci che vengono poi portati sul tavolo per dare ai cittadini che ne hanno bisogno c'è da un lato la ricerca scientifica diciamo pura fatta bene dall'altra però ci sono anche grossi interessi economici di chi lavora di chi investe nella ricerca questo non possiamo è un dato di fatto ora il plasma cosa consiste nel prendere gli anticorpi che una persona che ha fatto una malattia in questo caso di covid è come se fosse stata vaccinata dalla natura il covid entra nel mio fisico il mio sistema immunitario produce gli anticorpi io guarisco ho tanti anticorpi posso prelevarli con la plasma feresi si fa un agno una vena il sangue esce viene tolto il plasma il plasma è quella parte bianca del sangue che contiene la parte liquida e gli anticorpi sono estremamente efficaci tant'è che molte persone che sono state curate hanno avuto risultati ottimali qual è il problema perché viene messo in dubbio ma perché ancora una volta è stata fatta una ricerca fatta da colleghi se non ricordo male canadesi e nordamericani in cui hanno confrontato pazienti che ricevevano i cosiddetti studi randomizzati che l'OMS poi l'Alfa dice se non ci sono questi non vale niente sono stati confrontati malati curati col plasma e altre cure e malati curati senza plasma e con altre cure i risultati erano uguali quindi la risposta ha detto il plasma serve poco ma attenzione è uno studio unico e forse magari può essere fatto bene ma può avere qualche critica quindi da lì però l'OMS ha preso la decisione dice il plasma serve poco da lì tutta la critica secondo me dal punto di vista teorico e pratico il plasma serve ed è efficace certo e comunque sia è un aspetto molto bello a livello umano il fatto che comunque ci sia gente che mette a disposizione il suo tempo il suo sangue di fatto come i donatori Avis per comunque sia contribuire a che possa essere curato qualcun altro e rispetto a questo la cosa che volevo sottolineare è proprio il fatto che non abbiamo bisogno di non avere anticorpi circa la vicinanza delle persone è proprio una cosa su cui mi sento di dire che sarebbe bello riuscire a essere totalmente indifesi ma nel senso buono cioè totalmente accoglienti e totalmente anche solidali come penso sia stato anche quello che ha mosso lo spirito che ha mosso il fatto di pensare con le usca di andare verso e non di aspettare qualcuno ma di andare verso di chinarsi su qualcuno ecco secondo me questo è l'aspetto più come dire più più bello più bello più innovativo perché comunque sia difficilmente o comunque non è usuale che si consideri cura anche il fatto di rendersi presenza per qualcuno e quindi lo ritengo di uno spessore insomma o comunque di un'iniziativa veramente che ha un impatto umano che non è che appunto secondo me era da elogiare da sottolineare e proprio per questo abbiamo ritenuto necessario che ci fosse la sua presenza grazie in merito a questo io indico pure di capire grazie per questa considerazione io credo che sia davvero importante sottolineare questo punto guardi io insisto sempre ma anche nelle relazioni così alla fine dobbiamo cercare di capire quali sono i bisogni del malato perché noi tutti possiamo avere bisogno di qualcuno che ci curi quindi capire quali sono i bisogni e cercare di darci incontro di anticiparli se possibile poi il mondo ideale non esisterà però davvero io concordo anzi grazie di aver detto questo sul fatto dell'apertura verso gli altri e anche della solidarietà della tolleranza nel nostro corpo c'è la cosiddetta di tolleranza immunitaria è molto semplice da spiegare noi quando entra qualcosa di estraneo dentro come il virus produciamo gli anticorpi perché ci aggredisce però il nostro sistema immunitario tollera tutto l'organismo quando quando non funziona si creano le malattie causate autoimmuni come il lupo però la causata della tolleranza immunitaria è un concetto che si potrebbe davvero allargare alla società all'intera società partendo dalla biologia dalla biologia umana dalla biologia animale perché anche gli animali hanno una tolleranza immunitaria e non attaccano i propri tessuti grazie allora se me lo consente ci sono alcune domande dalla chat di internet io non sono abituato a queste cose qua mi viene un po' anche da così da toccare ferro dato che lo vedo fare nelle conferenze stampa di Conte quindi non vorrei insomma poi nella situazione odiana che abbiamo avuto qualche problemino insomma anzi mi scuso in diretta su su youtube con i disagi che possiamo essere che possiamo avere avuto a causa della neve ma questa è un'altra storia allora posso dire anche nome e cognome di chi fa le domande se penso di sì giusto allora Marzia chiede questa pandemia ha cambiato il suo modo di fare o di essere medico? Sì lo ha cambiato lo ha cambiato nessuno che ha fatto vedere degli aspetti non tanto nel rapporto col malato quello no non l'ha cambiato l'ha cambiato nei rapporti con la comunità scientifica proprio nei rapporti di ricerca nelle pubblicazioni scientifiche lo ha cambiato e mi ha fatto riflettere su alcuni punti che per tanti anni non le ho mai non davo per scontato e quindi sicuramente mi ha cambiato e a volte ne parlo con dei colleghi ma per essere più esplicito il discorso del plasma a volte viene fatto uno studio scientifico viene messo lì l'OMS lo prende su e dice ah da domani si cambia però io ricordo che ho fatto dei corsi con delle persone veramente brave dicevano da un singolo studio scientifico non potete mai trarre delle risposte cercate di avere un altro di conferma o un altro ancora quindi su questo davvero mi ha fatto molto riflettere quindi è cambiato un po' il mio atteggiamento invece un'altra domanda Dilva chiede come si possono spiegare qua entriamo nello specifico non è statistica ma è qualcosa che impatta la nostra vita come si possono spiegare i decessi della nostra zona in questa settimana in questi giorni qui e questo è una domanda davvero qui è difficile che ci facciamo ogni giorno come allargando nella nostra zona però attenzione che l'Italia è il paese che ha il maggior numero di morti in Europa e anche questo ci fa stringere nelle spalle davvero io non ho una risposta non ho una risposta ma dobbiamo riuscire a dare una risposta perché lo dobbiamo per le persone che sono morte per i loro parenti quindi voglio ci stiamo con un gruppo di medici non solo di Piacenza ma di Novara Milano Bologna stiamo proprio cercando di capire perché in Italia c'è un così alto tasso di mortalità considerando che l'Italia ha un sistema sanitario valido ha messo in campo le usca perché allora ci sono tanti morti lo dobbiamo arriveremo a dare una risposta a questo ci arriveremo grazie invece un'altra domanda di Basilio chiede ultimamente si parla della mutazione del virus ci saranno controindicazioni con i vaccini attuali o meglio potrebbero esserci inefficace diciamo parziali rispetto a questo tipo di mutamento la domanda è giustissima diciamo che il vaccino viene costruito come sul vestito del virus perché si è causato antigene dove poi l'anticorpo va con un piccolo missile va a dirigersi in modo molto specifico la mutazione per fortuna quella descritta quella inglese poi ci sono state tante altre è talmente diciamo limitata come quantità come ad esempio se io ho l'anticorpo diretto sulla mia maglia su questa maglia che ho se mi si rompe soltanto un pezzo di manica e lì la mutazione la maglia fa venire ancora diciamo l'anticorpo e quindi la mutazione è troppo piccola per non far funzionare il vaccino quindi il vaccino funziona lo stesso anche se c'è questo tipo di mutazione ho capito invece Emanuela chiede per noi trapiantati i vaccini saranno sicuri? La maggior parte dei vaccini sono sicuri anche nei pazienti trapiantati anche questo proprio visto perché siccome io lavoro in ambito oncologico e i pazienti oncologici hanno problemi di deficit immunitari ma ho visto che la maggior parte dei ricercatori anche per citarne uno il famoso Fauci che vedevamo vicino a Trump poverino un po' in disparte però è una persona molto seria lui non è un virologo lavora in malattie infettive da anni ha scritto i capitoli di libri di medicina interna i più diffusi nel mondo sostiene che le persone che hanno subito un trapianto anche se fanno terapia immunosoppressiva nel momento in cui fanno il vaccino possono ridurre un po' la terapia immunosoppressiva e il vaccino è efficace ok invece Franca chiede per patologie autoimmuni il vaccino è indicato comunque un altro pian piano all'inizio erano stati esclusi alcuni pazienti alcune categorie di pazienti dalla sperimentazione però pian piano si sta allargando ad esempio ci sono dire malattie autoimmuni è una categoria molto ampia di malattie dipende di quale tipo di malattie autoimmune e dipende dalla fase se è una fase diciamo di riacutizzazione come era aspettare a fare il vaccino se è una fase di remissione il vaccino potrà essere fatto ok se non ci sono altre domande allora io volevo intanto ringraziare veramente di essersi reso disponibile a venire così a farci compagnia e a darci anche delle rassicurazioni oltre che a raccontarci anzi prima di tutto a raccontarci della sua esperienza personale perché comunque non è mai scontato che un professionista si mette in gioco parlando di sé e di quello che ha esperito nel suo tragitto professionale in questa pandemia e anche a darci rassicurazioni a livello così tecnico scientifico perché appunto come abbiamo visto ci sono persone che hanno bisogno di avere esattamente risposte anche per problemi personali o comunque per essere più tranquille anche a livello umano perché comunque le notizie sono sempre contrastanti e abbiamo la fortuna di avere una voce autorevole qui con noi da noi e che sarete disponibile io per questo volevo ringraziare le volevo dare questa pergamena e con questo messaggio è un attestato da diciamo veramente fatto col cuore per noi è sicuramente un onore averla qua io ringrazio sono anche un po' partigiano appunto perché mia moglie è infermiera ringrazio a nome di tutti gli abitanti di Gossolengo tutti gli operatori sanitari medici infermieri OS tutti quelli che si occupano della logistica perché veramente è stato è stato veramente è stato ed è un lavoro d'equipe importantissimo e facendo questo le facciamo dono di questa nostra attestazione grazie grazie al professor Luigi Cavanna grazie che si è donato durante l'emergenza covid-19 mettendosi a disposizione della cittadinanza senza riserve con coraggio proponendo il modello Piacenza in tutto il mondo grazie a nome di tutto Gossolengo grazie 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 di nuovo no grazie all'invito davvero scusate il ritardo no no è colpa nostra no 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 è nel cortile di casa ah ok comunque non c'entra no 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 sono dovuto entrare per forza e poi non c'è più uscire da ringrazio di nuovo grazie 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 non troppo vicini però posso farlo sì abbiamo le mascherine grazie le mascherine grazie Grazie. Grazie.